Buongiorno, oggi ho letto un articolo del professor Alberto Asorrosa su Repubblica, un articolo diciamo sull'emergenza educativa. Naturalmente tutta la sinistra sta intervenendo sull'emergenza educativa, le scuole che vanno male. Ora la responsabilità di aver smontato prima la riforma gentile, poi di aver riformato, di aver spiegato che era più importante come si insegnava rispetto a cosa si insegnava, cioè dopo aver prodotto il danno adesso è ancora alla sinistra a spiegarci cosa bisogna fare per il futuro. Vabbè ma a parte questo l'articolo è divertente perché a un certo punto il professor Asorrosa dice che non soltanto i bambini ma anche gli adulti dovrebbero fare le prove invalsi. Le prove invalsi sono quelle prove uguali sul piano nazionale che servono a stabilire il grado di alfabetizzazione degli studenti e in questo caso non solo degli studenti ma anche dei lavoratori, dei pensionati, di tutti quanti. Naturalmente il sottotesto involontario è che il popolo è bue e ignorante, infatti guardate vota Salvini, vota Di Maio, vota questi populisti ringhiosi e nulla facenti. Ma chi è il professor Alberto Asorrosa? Beh ha i tigalloni accademici molto importanti, ha delle pubblicazioni molto importanti, voglio però ricordarvi l'ultima di un qualche peso dal punto di vista delle pagine prodotte che è la storia europea della letteratura italiana edita dei Naudi e sapete il professor Alberto Asorrosa cosa scrive in questo libro? Beh il grande accademico inciampa in un piccolo errore, confonde, udite udite, Curzio Malaparte con Curzio Maltese, Curzio Maltese l'editorialista di Repubblica, confuso con Curzio Malaparte. Beh professore faccio anche lei le prove in valsi.